...di andare a fare uno stage nella tenuta del maestro Mogor per migliorare e cercare di raggiungere la finale che si svolgerà al Piper a Roma. Dico già che questa canzone, ragazzi, l'ho scritta per la musica, questa qui è dedicata alla musica e metti i puntini sull'entico e poi dopo la gente dice, ma che vuol dire, che vuol dire, è per la musica. Io resto qui per capirmi un po' di te, magari scoprirò di quale illusione e morirò, poi tornare a vivere così. Il tuo sostegno che non mi abbandona ma sento avversità, ancora come ieri con te io sarò. Anche domani con te io sarò. Magari forse tu non mi toccherai, ma il mio pensiero con te avrai. E ancora come ieri con te io sarò. Sarò. Tu mi cercherai nei momenti che non sai combattere più ci sono momenti che... ... Anche Dio non può vedere, lasciando morire piano la nostra fede. Ma la luce non ci abbandona mai, ancora come ieri con te io sarò. Anche domani con te io sarò. Anche domani con te io sarò. Mi sorprendi e mi sorprendi e mi difendi ogni volta. ... 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 Grazie a tutti.